L'intera intervista a Marco Tarquinio e un approfondimento sul disegno di legge ZAN in onda questa sera alle ore 21.15 e in replica domani alle 14.35 nella trasmissione Scanner. In studio padre Francesco Mazzotta e in collegamento il consigliere di corte di Cassazione Alfredo Mantovano. L'usura è un patto con il diavolo, lo ha detto l'arcivescovo di Bari e Bitonto Monsignor Satriano nel corso delle celebrazioni per i 60 anni di ordinazione sacerdotale di Monsignor D'Urso per anni responsabile della fondazione anti-usura e ai volontari ha rivolto l'invito a continuare a lavorare contro il racket. L'usura è un patto con il diavolo, sconvolge l'esistenza e ribalta le coscienze. Sono le parole che l'arcivescovo di Bari e Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano ha pronunciato in occasione della celebrazione per il 60esimo anniversario di ordinazione presbiteriale di Monsignor Alberto D'Urso, storico presidente della fondazione anti-usura San Nicola e Santi Medici. Per l'arcivescovo l'usuraio nel suo stile è come il demonio, opera sotto traccia e nel silenzio e uscire dalla sua rete è possibile, ma è necessario avere il coraggio di spogliare se stessi, lasciare false certezze e garanzie terrene e seguire Gesù. Satriano ha ringraziato non soltanto Monsignor D'Urso ma anche tutti i volontari della fondazione anti-usura che sono riusciti a squarciare in oltre 25 anni di attività quel fitto muro di omertà che ha permesso all'usura di navigare nella società. Solo lo scorso anno i volontari hanno raccolto le testimonianze di oltre 400 persone a rischio usura perché segnate da un forte indebitamento dovuto alle conseguenze della crisi sanitaria che ha anche segnato l'esplosione di un fenomeno illecito nuovo, il cosiddetto welfare mafioso di prossimità in cui le organizzazioni criminali riescono a muovere denaro più velocemente rispetto ai circuiti creditizi legali e possono così porsi come alternativa allo Stato nel sussidio e sostentamento alle imprese e famiglie creando un sistema di welfare parallelo e accrescendo così il loro consenso nel territorio. Da qui l'appello di Satriano e volontari a continuare la sfida riattivando percorsi educativi nel segno del Vangelo.